su radio 06 vitamina f per visitare il nostro sito diretta a chiocciolaradio06.it se volete scriverci una mail o 331-332-1661 per mandarci un sms e allora sentite sta arrivando già la musica di Radio 06 noi vi regaliamo tantissime novità oltre alla musica che già conoscete questa è una di loro We Feel Se Cool We Feel Spumeggiante, frizzantina, quasi quasi direi rinfrescante questa pomeriggio al mare, finestrina aperta e l'aria che entra è perfetta e allora noi ve la regaliamo, ve l'abbiamo regalata e continueremo a regalarvela nei prossimi giorni sicuramente Mr. Saxo Beat, state ballando e io un pochino ho ballicchiato, qui un pochino abbiamo ballicchiato però adesso vi fermo un attimo perché vi devo dire una cosa importante, una cosa seria 06 promotion Bricofer ti invita questo fine settimana al weekend del gusto potrai degustare gratuitamente tanti prodotti tipici della tradizione italiana ma non solo, per l'occasione da Bricofer sconti eccezionali su centinaia di prodotti a partire dal 20 fino al 50% Bricofer ti aspetta al weekend del gusto questo fine settimana chiama l'199-199-144 oppure vai sul sito www.bricofer.it passa con noi questo fine settimana e scopri il sapore della convenienza perché da Bricofer fai da te a risparmiare, ci si prende gusto 19.20 in punto, noi andiamo avanti, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme allora noi vi vogliamo regalare altre notizie nonché tanta altra buona musica allora parliamo di musical perché il 27 ottobre debutta al Teatro Nazionale di Milano la versione italiana del musical Sister Act tutti ricorderete il famosissimo film poi seguito da Sister Act 2 in cui Whoopi Goldberg è la protagonista ecco allora, Whoopi Goldberg è anche la coproduttrice di questo musical che arriverà presto in Italia è un passaggio naturale visto che l'attrice è stata la star appunto del film che raccontava di una giovane soul singer che era costretta a rifugiarsi in un convento di suore dopo aver assistito a un omicidio lei annuncia che sarà uno spettacolo bellissimo e lei sarà soprattutto alla prima di Milano e ha dichiarato spero venga anche il Papa sicuramente se c'è il Papa dobbiamo tenergli lontano un personaggio che sta arrivando in questo momento su Radio 06 non li fate incontrare arriva Lady Gaga, Judas e ormai continuiamo su questo filone abbandoniamo per un attimo il gossip e lo spettacolo perché io sto dicendo delle cose che proprio dai, ve le devo dire vi dico questa una donna di Anderson in California è stata arrestata con l'accusa di aver fatto sesso con almeno tre ragazzi tra i 15 e i 16 anni loro saranno stati contenti ma la donna sta di fatto che è stata arrestata lei si chiama Deborah Litao e all'inizio aveva negato tutto però poi ha ammesso che dei contatti sessuali con i ragazzi ci sarebbero stati la cosa che stupisce è la scusa che lei ha dato la scusa che lei ha messo in quanto ha motivato queste sue azioni con un'argomentazione piuttosto insolita ha detto di aver voluto proteggere la verginità della giovane figlia quindi lei si concedeva a questi giovani ragazzi e in modo tale che la carica sessuale di questi ragazzi una volta soddisfatti sarebbero stati meno pericolosi per la figlia allora ma quante altre ne dobbiamo sentire io dico volete fare quello che volete fare fatelo vi prendete le conseguenze però dai no no basta così a Deborah e vatta a fanginetto continua la musica su Radio 06 sono le 19.27 in punto siamo quasi giunti al termine anche questa sera però non vi lascio prima di avervi fatto ascoltare una bellissima canzone stanno arrivando i Planet Funk and Other Sunrise qui su Radio 06 Martin Solvein featuring Dragonhead questa era Hello e questo era l'ultimo pezzo per quest'oggi siamo arrivati alla fine allora vi dobbiamo salutare lo so vi starete disperando lo so io sono un po' felice perché me ne vado a casa però non disperate voi non disperate perché lo sapete ormai è un appuntamento fisso tutti i giorni ci ritrovate qui dalle 18 in punto fino alle ore 20 sempre con me sempre con Mario Moretti allora che cosa aspettate l'appuntamento è per domani ciao la prossima vitamina F lunedì alla stessa ora su Radio 06